Tra i nostri microfoni incontriamo Cristian Falocchi, autore di una splendida prestazione in quel di Ancona, 2.25, complimenti Cristian. Grazie, grazie mille. Senti, una misura... tutta Brescia si è esaltata dopo il 2.21 e ieri hai regalato questo 2.25 sfiorando i 2.30. Dove può arrivare Cristian Falocchi? Non lo so, adesso è arrivato il 2.25 e sono felicissimo perché è un grandissimo traguardo, che non mi sarei mai aspettato in inizio stagione, però pian piano durante le gare così ho maturato l'idea di poter fare questo video per gli europei assoluti e adesso me lo godo, poi vediamo gli italiani assoluti cosa esce. Abbiamo sentito ieri Jimbo farti tanti complimenti e poi abbiamo letto anche cosa hanno scritto sia lui che il padre su Facebook. È stato un po' di più bello di fare 2.25 perché sono un grandissimo atleta e un grande allenatore che mi hanno fatto i loro complimenti e il loro in bocca al lupo per il futuro, quindi è stata una grande soddisfazione e sono contentissimo. Allora, tra poco campionato italiani assoluti e poi un pensiero? Agli europei assoluti, vediamo dai, se mi portano sarò felicissimo di andare e cogliere questa occasione. Senti, ma quanta strada è passata, quanta acqua sotto i ponti dall'inizio dei salti in Val Camonica? Tantissimo, da quando ero piccolo che ho iniziato ad andare a campo le prime volte a pensare gli europei assoluti, è veramente passato il mondo. Da parte nostra i complimenti ancora e in bocca al lupo. Grazie mille.